Gentili telespettatori, buona giornata. Landini, il capo della CGL, si lamenta che con il governo ha un pessimo rapporto. Dice non siamo stati convocati per la legge di bilancio, scendiamo in piazza. Caro Landini, ti dico due cosine. Prima di tutto non c'è scritto da nessuna parte che il governo debba far partecipi i sindacati della legge di bilancio, quindi non c'è scritto da nessuna parte. Se lo hanno fatto i governi precedenti negli anni lo hanno fatto, però questo non significa che il governo obbligatoriamente deve invitare il sindacato a parlare di legge di bilancio. Non sono fatti del sindacato la legge di bilancio. Il sindacato dovrebbe occuparsi di fare i contratti e di difendere i lavoratori nelle vertenze. I contratti? Ah Landini, i contratti? Quei 22 contratti l'anno scorso che avete fatto sotto i 9 euro, addirittura c'è un contratto da 5 euro l'ordi l'ora che avete firmato voi? Landini, Landini, lascia perdere la politica, lascia perdere la Meloni, concentrati sui contratti e non farlo mai più quello dei 5 euro. Quel contratto da 5 euro quest'anno lo devi far passare o il prossimo anno devi farlo passare almeno a 12-13 euro. Ce l'hai la forza? Le capacità per non fare contratti da 5 euro ma fare delle cose dignitose? Ma. Seconda cosa, Landini è da tempo che gioca a fare il politico. Schierato totalmente ideologicamente a sinistra va contro il governo su qualsiasi cosa che non c'entra niente col sindacato. Quindi lui fa politica e non fa il sindacalista. cioè parla di argomenti che lui non competono. Quindi prima di parlare di altre cose, se lui fosse quello che diceva in Italia con il sindacato tutti guadagnano almeno 15 euro l'ordi l'ora, allora dici tanto di cappello, caspiterina, questo è uno davvero... invece no. Quindi prima di poter mettere... prima di poter dare opinioni e intervenire in politica bisognerebbe fare prima bene il proprio lavoro. A parte questo, vi dicevo, non c'è scritto da nessuna parte che il governo debba invitare Landini a parlare di finanziario. Non c'è scritto da nessuna parte. Terza cosa, Landini ha dimostrato di essere ideologicamente schierato. Quindi di andare contro la Meloni a prescindere. Sempre e comunque a prescindere. Io se fossi nella Meloni farei esattamente la stessa cosa che sta facendo lei. Io questo Landini non lo calcolerei più minimamente. Ma questo non è perché dicevo, oh, i cattivi quelli di destra sono tornati dal balcone di Palazzo Venezia. No, non c'entra niente. Non c'entra niente. Significa dignità. Dignità. A Meloni non si può far mettere i piedi in testa da Landini ai contratti a 5 euro l'ordi l'ora. Cioè, sentirsi il predicozzo da Landini con i suoi contratti a 5 euro l'ordi l'ora. Cioè, non si può sentire. Avremmo potuto accettare il predicozzo di Landini se avesse portato i contratti a 15 euro l'ordi l'ora. Allora, caspita, questo è uno... ascoltiamo quello che dice. Invece con il contratto a 5 euro l'ordi l'ora non ti si può ascoltare in nessun modo. Proprio torna al lavoro, dimostra che cos'è il sindacato e poi ne parliamo. Quindi, dato che lui si è schierato ideologicamente, andava alle manifestazioni, lui Conte e Schlein, come se fossero i tre capi della sinistra, dato che lui gioca a fare il politico, ecco, continua a giocare a fare il politico, ma continua a giocare a fare il politico per i fatti tuoi. Perché la Meloni fa benissimo a non invitarti. Ma dove sta scritto che deve invitare uno ideologicamente schierato che fa i contratti a 5 euro l'ordi, invitarlo a Palazzo Chigi? Guarda, volevo dirti come faccio la finanziaria, eh? Ma, scusate, la CGL è pronta a tornare in piazza. Perché poi loro vanno in piazza. Allora, cari amici, il problema non è Landini che fa Landini, perché Landini fa il Landini. Il problema siete voi che andate in piazza quando quello dei contratti a 5 euro chiama. Ma dovreste andare in piazza contro Landini, no? Con i cartelli, 5 euro l'ora te li tieni tu. Perché non pagate Landini 5 euro l'ordi l'ora? Eh? Che cos'hai in più? Quali specializzazioni hai in più Landini per guadagnare più di 5 euro l'ordi l'ora come... Cos'era? Il contratto di quelli della sicurezza? Come si chiamano? Tipo le guardie giurate, no? Non vorrei sbagliarmi, ma se non sbaglio era il contratto per il quale lavorano le guardie giurate, no? 5 euro l'ordi l'ora, che vuol dire 7-800 euro se va bene netti al mese. Perché non paghiamo Landini? Perché il sindacato non paga Landini 5 euro l'ordi l'ora? Come dire, i dirigenti del sindacato devono prendere come il minimo dei lavoratori nei vari contratti. Quindi se il minimo è 5 euro l'ordi l'ora, i dirigenti del sindacato dovrebbero prendere 5 euro l'ordi l'ora. Riuscite a farlo alzare a 10? Bene, pagate Landini 10 euro l'ordi l'ora. Cioè lui deve dare l'esempio, visto che ha firmato dei contratti, lui o chi per lui ha firmato dei contratti a 5 euro l'ordi l'ora, loro devono dare l'esempio e mostrarci come si fa a avere con 5 euro l'ordi l'ora. Giusto? Quindi Landini che va in piazza, dovrebbe essere il sindacato che va in piazza contro Landini, non quelli che vanno lì con le bandierine contro la Meloni. Insomma, dai signori, sveglia. Quando Landini chiama per andare in piazza, ma non andateci, o meglio, fate una piazza contro Landini e i suoi contratti a 5 euro l'ordi l'ora. Con scritto perché? Fate un bel cartello con scritto perché 5 euro l'ordi l'ora? Perché? Why? Perché? Why? Perché? Vabbè, ma lui ha tutte le sue risposte, eh? Lui, quando gli hanno chiesto per i 5 euro l'ordi l'ora, ah ma questo era il massimo che si poteva fare, perché quel gruppo di aziende ha detto così o noi lasciamo perdere la contrattazione nazionale e così il sindacato per non perdere quel gruppo di aziende con gli iscritti va bene 5 euro l'ordi l'ora. Mamma mia che tristezza, eh? Mamma mia come state? Mamma mia come state? Va bene. Vogliono andare in piazza? E andate in piazza. Come vi dicevo il problema non è Landini che chiama la piazza, il problema sono quelli che vanno in piazza. Dico io, ragionate su questo sindacato, ragionate. Poi se sono schieramenti ideologici perché bisogna andare contro Giorgia, allora vabbè fate quello che volete. Bene, Landini dice il 20 settembre questo governo, come la Schlein dice questo governo, però non ve lo dico perché è già troppo lungo questo video, non ne vale neanche la pena. Arrivederci a tutti e grazie.